Benvenuti, oggi parliamo di cambio gioco, della capacità di una squadra di sfruttare l'ampiezza. Lo facciamo attraverso il bel contributo di Federico Trudu, proprio specifico e relativo a questo argomento. Ecco qua l'articolo di Federico, vedete il cambio gioco e l'importanza dell'occupazione dello spazio sul lato debole, dall'analisi dei principi alle varie possibilità di occupazione dello spazio sul lato debole durante la fase di possesso palle. Federico ha fatto veramente un bel lavoro andando così ad evidenziare una serie di principi che possono aiutare ad affrontare in maniera completa questo argomento, vedete l'ampiezza, la correlazione tra ampiezza e densità, come utilizzano il lato debole i top allenatori con alcuni esempi, come occupa questo spazio, le varie modalità e i riferimenti che devono avere i giocatori, l'uscita in sostegno e il lavoro del sostegno per poi andare ecco qua ad intervenire attraverso gli allenamenti sulle difficoltà della squadra. Ecco, i problemi che possono derivare da una cattiva occupazione del lato debole sono i seguenti. Il fatto che appunto il lato debole non sia occupato in maniera adeguata, quindi non abbiamo sufficienti giocatori su quella fascia di campo, dal tempo sbagliato della lettura della superiorità sul lato forte. Che significa? Significa che abbiamo, diciamo così, spostato la palla su uno dei due lati del campo, ma poi non l'abbiamo mantenuta per un tempo sufficiente per attirare l'avversario. Per cui la manovra poi sul lato debole risente del fatto che l'avversario fa presto a scalare se non li abbiamo, diciamo così, attratti in maniera massiccia proprio su quel lato. E quindi serve una serie di capacità tecniche e di codici di gioco affinché appunto i giocatori sul lato forte riescano a dialogare sotto pressione. E poi per andare a sviluppare il gioco sul lato debole serve una postura corretta, è un uomo, sull'uscita per poter andare ad innescare il gioco della parte opposta, qua l'ho evidenziato come un problema, quindi se la postura è sbagliata e se manco un uomo, ecco che abbiamo difficoltà a innescare il gioco sul lato debole. Dalla presenza dei giocatori nei mezzi spazi, la presenza dei giocatori nei mezzi spazi è fondamentale per creare dei dubbi difensivi all'avversario. Magari questo aspetto lo andiamo ad evidenziare meglio. Eccolo qua, vedete qua nella figura 10, questo giocatore qua tra le linee nel mezzo spazio implica al difensore di fascia di dover fare una scelta, per cui sia accorciare su questo uomo che si muove tra le linee, oppure, ecco, sul cambio gioco essere reattivo per andare a contrastare questo elemento che si sposta in fascia. Vedete nella figura 11, non c'è il giocatore tra le linee e il terzino avversario con semplicità si va a contrapporre al nostro esterno di destra. Altro esempio, qua in figura 12, vedete in questo caso il giocatore si muove, entra in questa zona e obbliga il laterale avversario in maglia rossa a dover fare delle scelte. Ecco, poi errori tecnici precludono, ecco, la possibilità di sviluppare la manovra attraverso il cambio gioco diretto o un cambio gioco manovrato. Questi sono gli aspetti fondamentali sui quali intervenire nel caso in cui la squadra abbia difficoltà a sviluppare il gioco sul lato debole. Poi, ecco, Federico ha proposto una serie di allenamenti, magari ne andiamo a prendere uno, lo ampliamo leggermente, sistemiamo meglio la visualizzazione, la facciamo a pagina singola, ecco qua, lo allarghiamo così, vediamo questo. Ecco, la seduta di allenamento in una fase iniziale prevede questo esercizio tecnico, come vedete con una serie di passaggi dei giocatori in questa zona di campo, proprio per abituare gli stessi a mantenere la palla, dialogare sullo stretto e attirare l'avversario in quella zona per poi, diciamo così, uscire da quella zona e attraverso un cambio gioco andare ad innescare il giocatore dalla parte opposta. Quindi le due squadre, una rossa e una blu, che sviluppano l'esercizio sia a destra che poi a sinistra, quindi spostandosi sulle varie zone di campo. Poi è chiaro che dovremmo andare a sviluppare una serie di esercizi che riguardano proprio la capacità della squadra nel dialogare per muovere palla da un lato all'altro fino a, ecco, a una partita a tema nella fase finale in cui viene evidenziato e strutturato il campo con questa doppia ampiezza sul lato destro e sul lato sinistro in modo da consentire ai giocatori, ecco, di avere delle letture semplificate e quindi di disporre, di disporsi all'interno di questa doppia banda in maniera tale che se non è all'esterno il giocatore proprio vicino alla linea laterale ad attaccare l'ampiezza deve essere il giocatore nel mezzo spazio qua nella corsia laterale interna a doverlo fare e viceversa. Insomma, un argomento estremamente importante, trovate il contributo qua cliccando su gennaio 2021, eccolo qua, andiamo a scorrere la pagina, eccolo qua l'articolo di Federico, il cambio gioco e l'importanza dell'occupazione dello spazio sul lato debole. Poi chiaramente come sempre vi consiglio di entrare su Training Ground e vi consiglio poi di andare a trovare magari altre esercitazioni, in questo caso per la fase offensiva, eccolo qua il punto 3 del capitolo 3 e trovate una serie di esercizi e di articoli per quanto riguarda la fase di raccordo e rifinitura, inclusi quelli che riguardano l'ampiezza dagli inserimenti in sovrapposizione a giocare in ampiezza per attaccare alla profondità, attacchi laterali di allenare i movimenti di catena, eccetera, eccetera. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao!